So già che su questo ci sarà qualche ONG, eh ma i diritti umani bisogna arrivare alla fine della domanda dell'asilo politico. Ma mi scusi, è par normale che uno sbarca in Italia, lo metto in albergo, fa domanda di asilo politico, intanto prende a pugni un carabiniere, scippa un anziano, molesta una bambina o spaccia droga fuori da una scuola e io non gli posso far nulla fino alla fine della sua domanda. Le faccio vedere un ONG che dice esattamente questo ma con un sovrappiù perché ci sono delle obiezioni tecniche, Ministro. Questo decreto di sicurezza fa fare all'Italia un passo all'indietro veramente impressionante. Non è possibile raccontare agli italiani che non si possa coniugare sicurezza e integrazione. Assolutamente sono due cose coniugabili. Non è che la sicurezza deve andare contro l'integrazione di queste persone, è contro una politica di accoglienza che rispetti le stesse direttive del Ministero degli Interni solo dello scorso anno. Siamo molto arrabbiati e lo dimostreremo nei prossimi tempi perché faremo di tutto per bloccare la conversione in legge di questo decreto. Questo è un decreto di destra ed è un decreto soprattutto che porta l'Italia molto all'indietro nella conquista delle libertà e dei diritti civili. È un decreto nel quale la nostra popolazione non si può riconoscere. Non è vero che tutta la popolazione è con Salvini, non è così, è falso. In Italia è il paese nel quale la percezione rispetto alla presenza degli immigrati è la più lontana dalla realtà. Il decreto è indecente e il ministro Salvini è un irresponsabile. Insomma li abbiamo attaccati a piano come si dice, ministro, però quello che dice... Ma secondo lei spacciare droga è un diritto umano? Adesso non ho capito questa signora molto enfatica, abbastanza bizzarra... Il responsabile della legge di refugie dice che i rifugiati in Italia godranno di uno status ormai unico in Europa perché ha tolto i permessi, l'asilo sarà più difficile. I permessi umanitari, perché ad esempio? Cosa sono e perché non ci saranno... Perché venivano regalati alla qualunque, venivano regalati a migliaia di persone che non scappavano da nessuna guerra. Invece io a livello europeo l'Italia si è portata alla pari degli altri paesi. Ti do il permesso umanitario se c'è stata una catastrofe naturale a casa tua, se sei stato vittima della tratta, se hai un'emergenza medica o sanitaria. Quindi in alcuni limitati casi ti do questo permesso per rimanere per un po' di tempo in Italia. Ma se regaliamo tutto a tutti, io ai 5 milioni di italiani che vivono in povertà, cosa vado a raccontare? Che la signora vuole riempire l'Italia di rifugiati? Eh no, non... Allora, mi dica se è corretta questa sintesi che noi abbiamo fatto. Stretta sulla protezione umanitaria ne abbiamo parlato. Revoca rifiuto asilo, che è un'altra cosa rispetto al permesso umanitario, in caso di violenza sessuale e spaccio di droga. Altro, violenza. Ma io sono partito da casi di vita reale. Faccio il ministro perché fortunatamente ho i piedi ben piantati per terra. Si ricorderà lei o si ricorderanno i telespettatori poco tempo fa, qualche settimana fa, dei richiedenti asilo che a Como hanno massacrato di botte e mandato all'ospedale degli autisti di autobus. Ora che succede con questi signori? Con questa legge, questi sono socialmente pericolosi, li porto in un centro per l'espulsione e li rimando da dove sono venuti, perché non vieni a casa mia a ammazzare di botte un autista di autobus. Senza processo, questo le obietteranno. Senza processo. Possono essere espulsi se hanno una sentenza di condanna in primo grado o se il questore li ritiene socialmente pericolosi. Se ti becco a spacciare droga, per me sei socialmente pericoloso. Questo aspetto del decreto, che è un aspetto che piace a molti, e lo vedremo tra poco, mi auguro che piace a tutte le persone normali. No, ma aspetti. Però dicono i nostri giuristi che potrebbe avere dei profili di incostituzionalità, perché fino al terzo grado non si è condannati. E quindi Mattarella potrebbe su questo dire la sua punto di domanda. No, ma io se ti becco che spacci, ti sospendo la domanda di asilo, ti rimando al tuo paese, se poi alla fine verrai assolto, perché non spacciavi, torni qua e recuperi il tuo diritto di fare la domanda. Però non ti tengo in giro per Milano o per Roma quando ti ho beccato con delle bustine di eroina in tasca a far tranquillo la tua domanda di asilo politico. Io ritengo che sia normale. Senta, una delle obiezioni che lei stessa ha fatto al sistema della migrazione. Non so se si possa dire clandestini ormai. È vetato dirlo clandestini? No, no, l'hanno cancellato da quasi tutti i telegiornali, però se uno è irregolare è clandestino. Va beh, allora irregolare, per carità. No, clandestino a me... Sicuro? E fa paura la parola clandestino? Eh no, a me mi tirano fuori. No, ferma! Clandestino un'altra volta. Salvini, l'ordine dei giornalisti mi fa fuori, io non posso dire clandestino.